Siamo qui in Piazza Bresca, nella splendida cornice di Piazza Bresca oserei dire, e c'è una nutrita schiera di personaggi, c'è l'assessore all'attività produttive di Palazzo Belvù, Barbara Biale, l'assessore alla cultura e al turismo, Daniel Cassini, Andrea Big Ben, Andrea Di Baldassare del Big Ben, abbiamo anche... Lello Carriere, organizzatore, organizzatore, cameriere, tutto a fare. Fausto Vadini del 21, lì dietro c'è l'orchestra che suona, Daniela cosa succede questa sera? Cosa è successo in questi giorni? Sono successe delle belle cose in settimana in Piazza Bresca, direi in questo contesto così suggestivo, grazie ad alcuni locali della piazza, c'è stata musica, c'è stato divertimento, c'è stato intrattenimento, insomma un modo piacevole per trascorrere qualche ora, un aperitivo, e questo direi che fa bene non solo alla piazza ma anche alla città perché è bello vedere Sanremo così animata e così per quanto ci riguarda dovrebbe valere insomma per tutte le zone, per tutte le piazze, è un modo di fare turismo che ci piace. È un buon inizio per la stagione estiva, per il calendario manifestante. Sì, sì, lo speriamo veramente. Speriamo vada in crescendo, buona serata a tutti. Grazie. Grazie a tutti.